Ad oggi non ci sono evidenze che sia in esaurimento la sequenza sismica cominciata con il terremoto del 24 agosto dell'Appennino centrale e proseguita poi con altre scosse il 26 e il 30 ottobre e da ultimo il 18 gennaio. Lo indica la Commissione Grandi Rischi, mettendo in guardia da possibili nuovi eventi ancora più intensi nelle zone vicine fino ad una magnitudo di 6 o 7. La Commissione identifica tre aree contigue alla faglia principale responsabile della sismicità in corso che non hanno registrato terremoti recenti di grandi dimensioni e hanno il potenziale di produrre terremoti di elevata magnitudo 6 o 7. Questi segmenti, localizzati sul proseguimento verso nord e verso sud della faglia del Monte Vettore-Gorzano e sulle aree già colpite dagli eventi di L'Aquila 2009 e Colfiorito 1997, rappresentano aree esorgente di possibili futuri terremoti. Gli esperti segnalano inoltre che i recenti eventi ripropongono il problema della sicurezza delle infrastrutture critiche quali le grandi dighe.